Eccoci qua per un altro video. Oggi voglio parlare degli scambiatori a piastre monopassaggio o multipassaggio. Cosa significa? Siamo tutti abituati a vedere nelle immagini e nelle fotografie degli scambiatori di calore a piastre che presentano tutti i quattro attacchi su un unico fronte, ovvero sul fronte anteriore, sul fusto anteriore. Esistono però anche scambiatori di calore a piastre che hanno attacchi fronte e retro. Cosa significa? Solitamente questi scambiatori presentano all'interno uno schema particolare di piastre, uno schema chiamato multipass, ovvero multipassaggio. Quando si utilizza questo tipo di schema multipassaggio? Si utilizza quando abbiamo necessità di salti termici molto lunghi ed incroci di temperature molto spinti, solitamente su impianti di recchi. Questo cosa serve? Serve perché in pratica noi con questo trucchetto, chiamiamolo così, andiamo ad allungare le piastre, ovvero abbiamo una lunghezza termica delle piastre molto più elevata, praticamente il doppio rispetto a quello dell'altezza dello scambiatore. E questo ci consente di spingere il recupero, quindi l'incrocio delle temperature, a dei limiti molto elevati. Ovviamente questo trucchetto porta con sé qualche inconveniente, tipo quello delle perdite di carico che inevitabilmente dovranno aumentare. È anche vero che in fase di progettazione possiamo tenerle controllate andando a inserirle nel software e quindi compensare l'aumento delle perdite di carico aumentando il numero delle piastre, ovvero dei canali in parallelo. Una delle cose che accadono a margine dell'impiego e dell'installazione di scambiatori multipassaggio è quello che ci ritroviamo con degli attacchi fronterenti. Questo è poco conveniente e porta degli inconvenienti. In sostanza cosa accade? Mentre sugli attacchi frontali non abbiamo nessun tipo di difficoltà, possiamo montare le nostre valvole direttamente sull'attacco flangiato o filettato, sugli attacchi posteriori se andiamo a montare direttamente le valvole, nel momento in cui andiamo a fare manutenzione ci ritroviamo in difficoltà perché abbiamo i tubi in mezzo alle scatole e quindi non possiamo spostare il fusto posteriore, non possiamo smontare le piastre. Il trucchetto qual è? Quello di mettere delle curve a 90 gradi e portare le valvole fuori dalla sagoma dello scambiatore. In questo modo quando andremo a fare manutenzione intercettiamo le valvole, smontiamo le curve e possiamo spostare con tutta comodità il fusto posteriore e fare manutenzione, aprire lo scambiatore, lavare le piastre, sostituire le guarnizioni. Una volta effettuate le operazioni lo si richiude, si rimontano le curve, si rimontano le valvole, si apre il circuito e il gioco è fatto. Ovviamente un'altra implicazione, ma lo avrete capito da soli, è quella che non possiamo fare ampliamenti se non modificando la posizione dei tubi. D'altra parte, insomma, a qualcosa bisogna che ci pieghiamo. Vi saluto, buona serata!